Piemonte Cuore Onlus e a Boves, presso il centro Saben, gestito da SD Aquatica, installiamo oggi il primo punto blu salvavita di Piemonte Cuore nella provincia di Cuneo. Un punto blu salvavita significa avere un defibrillatore a disposizione del fruitori, degli impianti sportivi, ma è anche e soprattutto un messaggio importante di prevenzione della salute. I primi minuti in un arresto cardiaco sono fondamentali. Conoscere le manovre salvavita, poter attivare immediatamente un defibrillatore, quindi defibrillare precocemente una persona, significa poter ridare la salvezza alle persone. Noi abbiamo preso questa ispirazione dal progetto Vita Piacenza, che 15 anni fa ha iniziato a distribuire sul territorio di Piacenza defibrillatori, 100.000 abitanti, 460 defibrillatori oggi che hanno potuto salvare 80 vite. La sensibilizzazione che noi facciamo nelle scuole come negli impianti sportivi significa fin dalle primarie, come nel resto d'Europa, conoscere i gesti salvavita, saper chiamare 118, poter fare l'animazione cardiopolmonare e poter usare un defibrillatore se distribuiti sul territorio. La sensibilità dei gestori dell'impianto Saben di Boves ha fatto sì che hanno potuto formare tutto il personale, quindi gli istruttori sportivi, gli assistenti bagnanti, l'amministrazione, sono stati formati all'utilizzo del defibrillatore. Un gesto semplice che persino un bambino può fare. Questa è la cosa più importante che noi possiamo fare nel cercare di sensibilizzare la persona a fare qualche cosa in attesa dei soccorsi. Questo è il fondamento del conoscenza della catena della sopravvivenza. Quindi allarme precoce, immediatamente avvisare 118, immediatamente fare massaggio cardiaco e se disponibile poter salvare la vita con un defibrillatore.